Buongiorno a tutti, oggi è domenica 12 maggio ed è la domenica detta del buon pastore ed è anche la quarta domenica del tempo di Pasqua. Ecco, in questo giorno tutta la Chiesa prega per le vocazioni. Quella del pastore è un'immagine che Gesù usa per farci comprendere come Dio si prende cura di ogni creatura, come della nostra fragilità che viene curata da Lui attraverso la sua tenerezza e la sua particolare attenzione per ciascuno di noi. Questa tenerezza, questa cura è anche autorità di Dio su tutto l'universo. Ai tempi di Gesù, come oggi, i pastori sanno vegliare sul loro greggio, sanno difenderlo, sanno guidarlo. Ecco perché l'immagine del pastore. Quella del pastore buono, che nel senso biblico può essere indicato anche come bello, perché kalos in greco esprime entrambi i significati, è l'immagine della tenerezza di Dio, che non è fine a se stessa, ma è ciò che ci fa crescere, ciò che ci nobilita e che ci dona autorità. Il pastore dunque è colui che fa crescere le sue pecore, che le rende capaci di seguirlo. Il Vangelo ce lo conferma, non è scritto che il pastore comanda le pecore e queste le obbediscono, no, è scritto che il pastore le conosce e per questo viene seguito dalle pecore, perché l'autorità del pastore buono passa attraverso la conoscenza intima e profonda delle sue pecore, una conoscenza che si capisce bene, non è basata solo sull'intelligenza, come nemmeno è basata solo sull'istinto, ma la conoscenza di cui ci parla Gesù, questa conoscenza che il pastore buono ha per le sue pecore è una conoscenza profonda, dicevo, cioè che fonda la vita, è qualcosa di simile alla relazione affettiva che può esserci tra una madre e il suo bambino. Ecco, in questa tenerezza c'è il fondamento dell'autorità che nel Vangelo viene proposto proprio nell'immagine del pastore e l'immagine del buon pastore non è un'immagine solo evangelica, c'è nella tradizione biblica ed è abbastanza diffusa anche soprattutto nella preghiera, ricordiamo il Salmo 23 attribuito al re Davide, il re scelto da Dio unto dal profeta Samuele. Re Davide, lui stesso pastore, già molto priva di diventare re, canta a Dio queste parole. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, in pascoli erbosi, mi fa camminare, mi conduce ad acque tranquille. Ecco, oggi cantiamo anche noi l'autorità di Dio sulle nostre vite, cantiamo la sua tenerezza di pastore buono che ha il coraggio di difenderci contro il male, così come un pastore difende le sue pecore contro i lupi. Il pastore buono sa tenere unite poi le pecore perché ama ciascuna di loro, tanto che esse non possono disperdersi. E oggi in questa quarta domenica di Pasqua allora meditiamo quanto Dio ami talmente il suo gregge da donare la sua vita, da consegnare a ciascuno di noi il suo modo di amare, perché anche noi possiamo essere autoreboli, forti, coraggiosi, amabili come lui. È così, anche a ciascuno di noi, ecco, Dio dà, confida un piccolo gregge. Può essere la famiglia, possono essere i colleghi, i vicini di casa, gli amici, tutti quelli che si affidano a noi. E quando cominciamo ad avvertire nel cuore una certa amabilità che cresce dentro di noi e che non viene da noi ma che agisce anche attraverso di noi, quando sentiamo dilatare in noi e attraverso di noi l'amabilità autorevole del pastore, allora viviamo la nostra vocazione e generiamo vocazioni, sì, perché siamo resi così amabili da essere sia buoni che belli, anche senza che ce ne accorgiamo. È l'amabilità e la bontà di Cristo pastore che ci attira a lui e fa in modo di attirare tanti altri a lui attraverso di noi. Allora oggi facciamo nostre le esortazioni del santo Papa Gregorio Magno che diceva domandatevi, fratelli carissimi, scrive il Papa, se siete pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della sua verità, parlo non solo della conoscenza della fede ma anche di quella dell'amore. Buona quarta domenica di Pasqua tra le braccia del buon pastore e ascoltiamo il Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni capitolo 10 versetti 27 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola.